Non è un po' più, sono più pazzi, non è un po' più pazziato. E' una panchina che è di… Sì, è sempre qui, guarda che c'è. Cosa le ore te le aspettiamo? Che luma con! Ma quelli non arrivano! Oh no, andiamo dai, andiamo. sta a posto? sta a posto in fondo no? non abbiamo fatto questo è stato un po' di cibo qui è stato un po' di cibo diciamo che sono sempre e sono ancora che ci sono un po' di Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Ciao. . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. . 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